Si aprono le gabbie, partite! Mary Bambi. Prima parte di gara piuttosto veloce con Charm Rosa che è in vantaggio lungo lo steccato nei confronti della grigia. Mike Grey Hope si prepara anche Cham D'Atec più al centro della pista, ci prova anche Pantalica. Ma a questo punto Cham D'Atec sferra l'attacco a Charm Rosa e passa in avvantaggio, è vitale lungo la corda, anche Mike Grey Hope prova la ricorsa anche Alba di domani. Ci prova anche Mary Bambi nella fase finale. Mike Grey Hope che si riprende la leadership, Mike Grey Hope che batte Cham D'Atec nella fase finale. Poi anche voilà Bambi, Mary Bambi che si accaparra il terzo. Fase finale davvero molto buona per Mike Grey Hope numero 8 dello schieramento, una figlia di Zebedea, la prima affermazione in carriera che batte Cham D'Atec. Quale aveva prodotto una bella accelerazione. 8 al primo posto Giuseppe Ercegovici in sella, la cavalla di Francesco Santella al training e alla proprietà. Al secondo posto Cham D'Atec e al terzo Mari Bambi, quindi numericamente 8, 4, 7. L'ordine d'arrivo della seconda. L'ordine d'arrivo della seconda.